Grazie a tutti 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 Il nostro popolo è qui Mario Abbiamo esaurito tutti i posti, piedi e sedere Per questa grande sfida Prego Costanza Ognuno su microfono Ecco ancora un grandissimo applauso e ascoltiamo la nostra bellissima Costanza e il nostro grande Mario Grazie a tutti Grazie a tutti Adesso ascoltate qualche minuto di Costanza e poi proveremo a parlare di una cosa che ho visto adesso, me l'hanno dato adesso, per cui cerco di ricordarmi cosa ho scritto e qualcosa vi racconteremo Grazie, è un'emozione tipo family day, mi ricorda quei giorni in questo film Allora, niente, io ho ricevuto il libro da, insomma, l'ho stampato ma sono riuscita a leggerlo solo ieri però devo dire l'ho divorato nonostante il sonno, mi ha tenuto sveglia perché proprio sento vibrare le note giuste Intanto volevo dire che era partito bene con Asilvia, per cui io speravo in qualcosa di romantico Invece niente, poi dopo tutti, insomma, aspettavo la storia, il bacio, invece niente No, devo dire c'è un passaggio che mi ha commosso, quello in cui parli di tuo padre E lì veramente c'è scappata la lacrima e poi ti chiederò se hai mai detto quelle cose a tuo padre dal vero oppure perché è difficile E poi, niente, ho notato innanzitutto che il titolo è da maschi perché o capiamo o moriamo, no? Perché i maschi fanno una cosa per volta O i maschi dicono, non mi dire prova a capire, o provo o capisco Quindi o capiamo o moriamo E dobbiamo capire perché Un'altra cosa da maschi è che questo libro è pieno di dati E sono contenta che il formato sia così piccolo da borsa Tipo Vangelo da tenere in borsa perché appunto è pieno di dati E servirà quando dovremo confrontarci con qualcuno È pieno di informazioni E riassume Ho deciso che, insomma, quando mi chiederanno qualcosa Io prima di dire quello che penso chiederò a Mario Quello che penso io lo chiedo a lui È veramente un riassunto asciuttissimo Proprio utilissimo su tutti i temi fondamentali Sui quali saremo chiamati a combattere purtroppo ancora a lungo Nonostante la scrittura ottima E quindi, insomma, anche da un punto di vista letterario Però ecco, quello che mi ha colpito è la lucidità nella scelta dei dati giusti Io ho detto sì a questa presentazione Anche se sono in un periodo di grande stanchezza E ho chiesto a mio marito il permesso Tipo alle 4 di notte Così era particolarmente distratto Diciamo, con le difese abbassate Mentre stavo appunto cercando di scrivere il mio di libro Ho detto sì perché sono affezionata a Mario Perché io credo che siamo tutti debitori a Mario Di tante cose In particolare Anche se la battaglia finale sulla Cirinna In definitivo forse l'abbiamo persa Anche se siamo in tanti Ma dobbiamo a lui il fatto di avere scoperto Che tra le righe c'era l'apertura per l'utero in affitto E di quello non si era accorto nessuno È stato lui a mettere A fare un macello tremendo A mettere la cosa insomma In primo piano sui giornali E credo che se non ci fosse stato lui La legge sarebbe passata anche con quel famigerato articolo 5 E quindi credo che tutti noi Ma non solo noi che siamo qui Ma tutta Italia Per questo gli debba tantissimo E quindi io mi sentivo insomma In debito per questo grande lavoro che ha fatto Di leggere le cose Di accorgersi Di non lasciarsi sfuggire Mario è uno che legge Che insomma purtroppo non gli sfugge niente Ecco Devo dire anche che Su tanti di questi temi Di cui ho letto tantissimo Hai tirato fuori dei dati Che per ogni tema I dati secondo me centrali Per esempio io non sapevo che Si vendono ogni anno 600.000 scatole Di pillole abortive Quindi tutti i comunicati trionfalistici Sul calo dell'aborto in Italia Non tengono conto di questo dato allucinante Che non si trova mai sui giornali Quindi è assolutamente indispensabile Tenere nella borsa Una copia di O capiamo o moriamo E l'altro motivo per cui sono affezionata a Mario E' perché E' un cavaliere di altri tempi E' uno di quelli che apre la porta della macchina Che come dice Paolo Pugni Non so se c'è Di solito Quando un uomo apre la portiera della macchina A una donna E' perché o la macchina E o la donna sono nuove Una delle due è nuove Invece nel nostro caso Non era così E quindi insomma i cavalieri D'altri tempi A noi femmine di altri tempi Piacciono E io direi che possiamo cominciare a entrare Nel caldo Sempre leggendo Dopo a Silvia Che mi era un po' Dico adesso parlerà anche un po' D'amore La prima cosa dico Mi viene in mente una parola di Socrate a Fedone Mi sono sentita ignorantissima O invece ho visto che era Papa Benedetto XVI Perché io conosco solo Giovanni Marco Tuglio Cui può venire in mente Una parola di Socrate Perché a me normalmente mi viene in mente Che devo comprare la Nutella Durante la giornata Perché mi viene in mente il Fedone Insomma va bene No invece poi dopo il libro scorre Non è tutto così Quindi entriamo Entriamo nel vivo della questione Anzi prima di tutto ti vorrei chiedere Chi è il lettore A chi hai pensato scrivendo questo libro? Chi è il lettore tipo? Ma io Ti ringrazio intanto Costanza Un applauso a Costanza Mediano Che sacrifica un po' salvato in famiglia Per stare invece in questo luogo Che poi famiglia è Io guardo i volti Ormai vi consiglio davvero tutti Carnalmente fratelli e sorelle Siete sempre bellissimi Alla Pongi devo subito chiedere Ho condiviso Sono riuscito a condividere Sono ormai le dirette fede Abbiamo il Popolo e la Famiglia TV Che sta andando in diretta C'è il coordinatore nazionale Nicola Di Matteo Che è arrivato anche lui Col pullman degli amici romani Grazie a Nicola per il lavoro enorme Che sta facendo Il territorio nazionale E un grazie speciale Fatemelo dire A Mirko De Carli A tutti i ragazzi I volontari Al Popolo e la Famiglia Di Diolo Terme Fatemi dire Insomma ragazzi Avete preso il 14,5% Con il Popolo e la Famiglia Grazie a Nardo In alcune settimane Grazie, grazie Dal profondo del cuore Avete dimostrato Che si può fare Che non è vero Che quello che abbiamo detto In questi 20 mesi È impraticabile Si può davvero Riuscire a proporre Al Paese Se il Paese è Riolo L'Italia È la stessa cosa Ma si può proporre Una dimensione diversa Dell'essere Quella famosa Frase che cito Dal discorso di Radisbona Pone la questione Dell'essere Oddio che roba complicata Non sta nei libri Non va in classifica Tutto vero Ma è la questione decisiva E noi abbiamo deciso Di porre attenzione Alle questioni decisive Non vogliamo farci distrarre Non stiamo cercando alleanze Non stiamo cercando imbrogli Inciuci O visibilità Noi cerchiamo Di parlare Di questioni decisive Anche se non sono di moda Anche se sono contro La moda corrente È una necessità È anche una responsabilità Che ci assumiamo E per questo Quando immagini il lettore Immagini un lettore Che non sappia nulla Che non sappia nulla Che si avvicini a questo libro Che si avvicini a questo libro Non lo so Perché si stupisce di trovarlo Dopo 36 ore Nella top ten di Amazon In mezzo a Giuseppe Cruciani Della Zanzara Perché ci vuole un po' di curiosità Per avvicinarsi a noi E poi voglio capire Perché questi Sembrano così matti No? E tutti ci dicono sempre questo Ah siete esagerati E allora vorrei condurlo Questo lettore Attraverso Una scrittura molto piana Dentro Le questioni Che atterriscono me Perché mi atterriscono Perché da padre Di famiglia Ho paura Che un mondo Che va In quella direzione Rispetto al tema Fondamentale dell'essere E dunque Alle declinazioni Possibili Non sia In qualche modo Arrestabile E allora io Tratteggio Racconto Provo a spiegare Quali sono Gli elementi Anche simbolici Di preoccupazione Che vivo Provo a dire Che non è una mia opinione Ci sono dei dati oggettivi Che raccontano questo Quando Costanza cita Il numero Delle scatole Di pillola abortiva Delle varie funzioni Un giorno dopo Cinque giorni dopo RU486 Che vengono vendute In un anno Io nel libro Vi dico anche un'altra cosa E non capiamo Moriamo Trovate la cifra Che si vendevano Nel 2015 Di queste pillole Non nel 1930 Nel 2015 E la cifra Era 13.000 Cosa è potuto accadere Affinché Arvenisse Questa esplosione Colossale Dal punto di vista Dei numeri Di donne Che non vogliono Essere madri E arrivano al punto Di uccidere i loro figli Pur di non esserlo Cosa è accaduto Cosa è accaduto È accaduta Una piccola cosa Che noi non abbiamo saputo Nel leggere Nel fronteggiare E che non conosciamo Neanche adesso E per questo La metto nel libro È accaduto Che un governo Ha autorizzato L'AIFA Che è l'associazione Del farmaco Di rendere Questi farmaci Disponibili Via banco Senza Prescrizione Medica Ecco quello che è accaduto C'è un atto Che dà origine A questi elementi Quell'atto Porta Da 13.000 scatole Perché prima Dovevi andare Dal medico Per dire Ah ho avuto Il rapporto sessuale Magari non lo trovavi subito Ti vergognavi O c'era un motivo Comunque Di ostacolo A rimuovere Quell'ostacolo Rimuovendolo Perché Per fare del bene Alla società O per fare del male Alle persone Al bambino nascituro E alla società Per intera E che io vorrei Che questo fatto Fosse noto A più persone possibili Che si individuasse L'origine Di un elemento Pericoloso Se ne guardasse La conseguenza Immediata E si provi A porre rimedio Il popolo E la famiglia È L'antidoto Possibile A questo Veleno Per questo Siamo qui Questa per esempio È una delle cose Che non si leggono Sui giornali E che si trovano Solo qui Che questo passaggio Si è causato Da un atto Del governo E non da un cambiamento Di costume Così repentino Insomma L'altra domanda Io leggendo Diciamo L'altra domanda Preliminare Prima di entrare Nelle questioni Leggendo Io ho avuto Un po' Di scoramento Perché Le fotografie Che fai Di questi Di questi Argomenti Aborto Eutanasia Utero in affitto Eccetera Sono un po' Sconsolanti La mia sintesi È stata Veramente Il diavolo È il principe Di questo mondo Perché sembra Spadroneggiare E vincere Di fronte a questa Evidenza del male Le risposte Sono Forse Diciamo Tra noi Credenti Tendenzialmente Due L'opzione Benedetto Quella di Ritirarsi Non combattere più Ma passare A una testimonianza Più nel privato Più silenziosa La preghiera La parola di Dio Eccetera Oppure La scelta Del popolo Della famiglia Quella di ricreare Una presenza Vera Dei cattolici In politica Io sono Tra quelli Che penso Anche molti di noi Che pensano Che si possano Fare entrambe le cose Cioè Testimoniare La bellezza Nel privato Senza opporsi Mai Nelle relazioni Personali Vivere Radicati Nella parola Nella preghiera Quindi avendo una vita Spirituale Però anche Cercando di costruire Una presenza Politica Quindi Si possono tenere Insieme Le due cose Perché come sappiamo Tanto credo Lo sappiamo tutti Prima dei Family Day Non tutti hanno aderito Non tutti i cattolici Diciamo Che alle riunioni Avevano Erano stati presenti Alla preparazione Tanti hanno detto Noi non siamo Per il combattimento Noi preferiamo Testimoniare Col vicino di casa Semplicemente Con la bellezza Della nostra vita Ecco Tu come la vedi Questa cosa Grazie Costanza Perché mi dai L'occasione Di salutare Due amici Che hanno fatto 800 chilometri Per essere qui Sabino Sabino Marco Pasulo Sono contenti Perché l'anno scorso Eravamo a 850 chilometri Da casa Perché abbiamo avvicinato Secondo il navigatore Hanno fatto prima Insomma Perché loro sono il simbolo Del saper mettere insieme Quello che vorremmo Saper mettere insieme C'è la testimonianza E l'impegno combattivo Sabino Marco Hanno fondato il gruppo Che di tutti i gruppi È il più numeroso Del popolo della famiglia È il gruppo preghiera Il gruppo preghiera Non so se Alfano Ha il gruppo preghiera Ha il naso Non lo so Mi sa di nozzo Non so se a Treiu Da una parte C'è il gruppo preghiera Oggi Non mi sa di no Giusto? No Allora Noi abbiamo messo insieme Questi elementi Ci rendiamo conto Che non basta Il combattimento Perché saremmo soldati Senza armi Non potremmo andare Da nessuna parte Saremmo privi Di efficacia Lo dico con chiarezza E con la concretezza Che mi contraddistingue Noi accompagniamo A un'ispirazione Forte E dichiarata Una capacità Organizzativa Che vuole essere Sempre più evidente Per poter mettere insieme Questi due elementi Preghiera E azione Che insieme Possono davvero Cambiare il contesto In cui viviamo Può accadere Veramente Sta accadendo Questo è un comune Dove Per decenni Mirko Dico bene Ha vinto 70 anni Diciamo Ha dominato Una parte sola E anche loro Non avevano Il gruppo preghiera Diciamo così E ha voglia Di rappresentare Simboli Di partiti E partitelli Ci è voluto Il popolo La famiglia Per dire C'è un'altra cosa Possibile Anche con il rispetto Reciproco Dell'amministrazione Di sinistra Di questa città Che salutiamo E ringraziamo Nei loro Nei nostri confronti Non è loro Non è loro C'è una capacità Di costruire Se costruisci Testimonianza Che però È anche impegno Combattivo Se costruisci Preghiera Che però Sa anche Essere azione C'è la possibilità Di costruire Una riflessione E non capiamo Moriamo Prova da spiegarlo Con estrema nettezza Questo Se noi mettiamo Tutti questi dati In fila E ci fermiamo Alla sensazione Della paura Che ho dichiarato Io per primo E che tu confermi E poi fermiamo L'azione rispetto A tutto questo Alla mera dimensione Della preghiera Io credo Che non facciamo Abbastanza A sufficienza Il nostro dovere Di cristiani Questo è l'elemento Che io porto Noi abbiamo Il dovere E la responsabilità Davanti al male Che avanza E che vediamo avanzare Di dare una risposta Che è anche Politica Anche Politica Ma che presuppone Parte Da una riflessione Tutt'altra Andate a vedere I messaggi Whatsapp Che mi scambio Con Massimiliano Amato Che saluto Non so dove ho perso Eccolo qua Massimiliano Che vi permette Di salutare Gianfranco Amato Il nostro segretario nazionale Del popolo e della famiglia Gianfranco È andato in Messico E non so se lo devo svelare Andà in Cile adesso No? Già detto Perché viene visto Come un simbolo Di una preghiera Che a livello mondiale Si fa azione A risposta concreta Chiedono al segretario nazionale Del popolo e della famiglia Come si fa Noi questo siamo Come si fa Proviamo a spiegare Ai tanti nostri amici Che ci dicono No bisogna andare Con i soliti politici Noi diciamo Si può fare E forse si fa davvero Solo se partiamo A Da una grande consapevolezza Del male che avanza E da una lettura concreta Di questo male che avanza B Da una capacità di riflessione Di meditazione E di preghiera Che rafforzi La nostra volontà E il nostro convincimento E poi da una capacità Di stare in battaglia Per far vincere I nostri principi I nostri valori Bravo Mario Direi di entrare Nel merito Delle questioni Un'altra cosa Adesso Parlando Vengo a continuare A venire in mente Un'altra cosa Di cui ci sono debitrice È che Io non avevo mai sentito Parlare del gender Quando tu mi chiedessi Di organizzare Degli incontri Sul gender Con padre Maurizio Non avevo manco neanche Sentito parlare Tanto di te A dire la verità Padre Maurizio Botta E Marco Scicchitano Organizziamo degli incontri Per spiegare alla gente Cosa è il gender Io vengo Però magari prima Spiegatelo a me Perché E me l'hanno chiesto Perché io inconsapevolmente Diciamo Me ne ero occupata Senza saperlo Perché avevo scritto Dei libri sul matrimonio I quali avevo Dato per scontato Che i maschi Sono diversi Dalle femmine Anzi Era solo un tentativo Di traduzione Del linguaggio Maschile O meglio Del non linguaggio Maschile E di quello femminile Che invece È anche troppo E quindi Cioè Di questa differenza Maschile e femminile Avevo parlato Insomma Come se fosse ovvia E scontata È solo grazie A Mario E a questi incontri Che abbiamo cominciato A fare Nelle parrocchie Diciamo Un po' Di periferia Ho capito Che invece Questi dati Di fatto Ovvi e scontati Erano messi In discussione Quindi ho scoperto Tutto un mondo Qui penso Che siamo tutti Invece Più avanti Di come ero io Qualche anno fa Però magari Se ci vuoi ricordare Quali sono I cinque comandamenti Dell'ideologia Gender Grazie Costanza Perché questo è un elemento Che quattro anni fa Quando noi cominciamo Noi ci siamo ricordati In macchina Che nel primo Appuntamento Appunto Con Padre Botta Cicchitano Miriane Adinolfi In un teatro di Roma Di quattro anni fa E allora sembrava Veramente un tema esotico Signori Il 7 Di ottobre Del 2017 Cioè Tra 15 giorni La sede Del Consiglio Regionale Della Toscana Ospita Per iniziativa Di un consigliere Regionale Pediatra Un convegno Che si intitola Bambini In Rosa Per teorizzare La presenza E la cura Necessaria Per bambini Che vanno Dai due Ai quattro anni Considerati Transgender Il percorso Che ha La strada Che è accaduto Cioè Tutto quello Che è avvenuto In questi quattro anni E che ora La strumentalizzazione È diventata Talmente violenta Che ha Afferrato I nostri Bambini Perché loro Hanno dei comandamenti Sono dei comandamenti Gli ho spesso In O capiamo O moriamo Che negano Maestra Costanza Descrive con leggerezza Questo elemento Ma la volontà È di negare La distinzione Tra il maschile E il femminile E noi in quegli anni Ci chiedevamo Ma perché Investono così tanto Nella negazione Della distinzione Evidente Che c'è Ed è Incontestabile Tra maschile E femminile Perché Perché al fondo Bisogna Negare La distinzione Tra il padre E la madre È questo L'elemento Di cui hanno bisogno Scientificamente Per poter approdare A una teoria Della omogenitorialità Che è scandalosamente Che è scandalosamente Violenta Nei confronti Ma magari C'è casca Perché voglio andare Qui in tribunale A discutere Con una persona Del genere Che sia legittimo E pensabile Che si diano A minori di 12 anni I farmaci Che si chiamano Ipotalamici Bloccanti Di cui non sentite Mai parlare Ma trovate Raccontati In questo libro Che servono A bloccare In un bambino Di 9 anni La transizione Puberale Servono a dare A costo Di 2.000 euro A Fiala Estrogeni A bambini Di 11 anni La dinofia Agita le paure Gli spauracchi Io sono australiano Come sapete Per metà Porto il passaporto Australiano In tasca A sita E nel più importante Programma Che si chiama Sixty Minutes Il 6 settembre Scorso È andata in onda L'intervista A un bambino Bambino Di 14 anni Che ha detto Sì Io pensavo Di essere bambina Mi sono fatto dare E ho chiesto Che mi vissero dati I bloccanti Ho chiesto Che mi vissero dati Gli estrogeni Io adesso Ho 14 anni Io so Di essere un maschio E non posso Andare in giro Perché ho il seno Non posso andare A giocare con i miei amici Perché mi prendono in giro Non posso andare al mare E devo andare a cercare Una nazione Che consenta La mastectomia Demolitiva Su un bambino Di 14 anni Che non esiste Al mondo Ha dovuto andare In Corea del Sud Perché forse Solo lì Lo operano Signori Ma pensate Che cosa state facendo A vostri figli E se noi alziamo La voce Su questo elemento Noi siamo omofobi Siete voi Che siete violenti A un punto Che neanche riconoscete L'elemento Della vostra violenza Un bambino Sempre Sempre Nell'esperienza mia Delle mie figlie Ha un elemento Di momento Di curiosità Nei confronti Della sessualità opposta Si può declinare In mille maniere Può finire Con Mario Che gioca con le Barbie Possono accadere tante cose Mia figlia Gioca a calcio A sette anni Molto gender Come scelta Non è più giusto Ma alla fine Nella totalità Dei casi Vorrei dire Questi elementi Si riallineano Si riallineano Guardate Non stiamo parlando Neanche di omosessualità Non stiamo contestando La scelta Di avere rapporti Con persone Dello stesso sesso Qui stiamo parlando Dicendo semplicemente Che un'ideologia Violenta Che nega la radice La distinzione Dalla maschile e femminile Teorizza la possibilità Di transizione Assalta Le scuole I media Con questa ideologia E poi Ora Può arrivare A mettere le mani Sui bambini Con i farmaci Con questa violenza Con le cliniche Già costruite In Olanda Già attive In mezzo mondo Per fare queste porcherie Tutta questa roba Deve essere Negata Per legge E se il popolo La famiglia Andrà al governo Di questo paese In qualche modo Come primo atto Preliminare All'attesione A qualsiasi forma Di maggioranza Dirà Si vara Un decreto legge Perché la costituzione Fa varare i decreti legge In caso di necessità Ed urgenza Per vietare Qualsiasi pratica Di questo genere Nei confronti Dei minorelli E questo È un nostro Giuramento È un nostro Giuramento Questo significa Quel simbolo Lo vedete Lo sventola Un'amica Dentro quel simbolo Abbiamo scritto No gender Nelle scuole Lo sai Costanza E quando presentammo Quel simbolo L'Arcichiei disse Che il ministero Dell'interno Doveva vietarci La presentazione Alle elezioni Perché quella scritta Era evidentemente Contro la legge Mancino E discriminante Nei confronti Giososessuali Noi Orgogliosamente Quella bandiera Continuiamo a sventolarla Ricordiamo che oggi E sono contenta Che anche la croce Ne ha parlato Perché su questi temi Poi non ci sono divisioni Quando c'è da combattere Si combatte Uniti Oggi è partito Il bus Il bus Arancione Che percorrerà l'Italia E sono Insomma Sono contenta Ecco Tutto quello Che si può Diciamo che Chi non è contro di noi È con noi No? Quindi È importante Combattere Appunto Anche Anche a livello Dell'opinione pubblica Perché la propaganda Genderista Non è solo Pericolosa Nelle scuole Pericolosissima Nelle scuole Non solo A livello di leggi Ma anche a livello Di costume Tu citi Questo fatto Effettivamente Un po' Inquietante Di Sanremo No? Cioè È forse Una coincidenza Ma forse Anche no Che sono andati Sul palco Nel 2015 Con Citta Wurst Nel 2016 Elton John E Nicole Kidman E quest'anno Ricchi Martini E Tiziano Ferro Cioè tutti Fruitori Dell'utero In affitto Secondo te Come si spiega Questa cosa? Non è casuale Tu lavori in Rai Io ci ho lavorato C'è Danilo Leonardi Che saluto da qualche parte Che è un dirigente Importante Che per queste battaglie Paga di persona Sempre oscurato Su Facebook Adesso mi sembra Che sei libero Danilo adesso è lì Perfetto E allora lo diciamo Con chiarezza Non sono cose casuali Vengono scelte Cioè Conosciamo la Rai Almeno noi che ci abbiamo Laurato Ci lavoriamo Non esci Sul palco Di Sanremo 1, 2, 3, 8, 12, 15 Cantanti Tutti con l'accetta Al cobaleno Perché sarebbe Un dirigente Rai Che se uscisse Uno Col simbolo Il portaguido Mastrobuono Il cappellino Il simbolo Il popolo La famiglia Immediatamente Escluso dalla gara Sanremo D'accordo? Lo sappiamo No? Invece lì Uno, due Non sa cantare Quindi sarebbe giusto Ora Il tema fondamentale È Che ciò Tutto quello Che sta avvenendo Non è casuale È organizzato Da regie precise Presenti Nelle case mazze Dell'informazione E della comunicazione Evidentissima In Rai A Rai 3 Hanno proponato Non so quante puntate Una cosa Siamo a stato civile Per esaltare Le riunioni Le riunioni gay Prima serata Anche il giorno di Natale Cioè proprio Senza Senza alcuna Alcun rispetto Per La famiglia naturale E il feste di Sanremo Che è l'icona Diciamo così Del nazional popolare Dove sarebbe stato Assolutamente Impensabile Un concentramento Di questo genere Di personaggi Tutti Testimonial Della pratica Della maternità surrogata Improvvisamente Dal 2015 Al 2017 Con un'unica direzione Artistica Lo ricordo Fanno uscire Questi personaggi Uno dopo l'altro Ripeto Con l'edizione In cui si gioca Con tutti obbligati A avere Il laccetto Al compaleno Lo ricordo sempre Obbligati Di fatto obbligati Perché c'è Un obbligato Quando Un meccanismo È indotto Anche se io Non te lo vengo A mettere Di forza È chiaro che Lo costruisco Quel meccanismo In cui poi alla fine Ti trovi a uscire Con quella cosa lì Tant'è che Quelli che resistono È stato un solo gruppo In quell'edizione Furono gli stadio E per inciso Vince Lo Sanremo Per cui Questo elemento Sta a dire Ed è bella Questa Questa interruzione Perché Non dobbiamo pensare Che la violenza Rispetto a questi Comportamenti Risieda solo Nel momento In cui c'è Una coercizione fisica A espletare Un comportamento La violenza Di tipo Orguegliano C'è un grande Fratello Che può Costruire Le condizioni Per cui Tu sei Sfigato A scuola Se provi a dire Che leggi Un libro Di Costanza Miriano E quell'elemento Non ha nulla Di coercitivo Non sono vietati I tuoi libri Ma il comportamento Costruisce Il contesto Allora noi dobbiamo Essere molto attenti Su questo E sapere che Esistono Delle regie Visibili Io parlo sempre Di lobby E Nessuno Mi toglie La testa Ma lo hanno detto In moltissimi Anche contestandomi C'è un'intervista Imma Battaglia Che è una leader Del mondo LGBT A Roma Mi ha detto Sì ma noi ci diamo Una mano Siamo una rete E io difendo Il fatto Che tra noi Ci sosteniamo Per i vari bisogni Come Una rete deve fare Insomma E così Accade Per loro Noi siamo L'assoluto nemico Non c'è altro Siamo solo noi Basta leggere Un bellissimo blog Che si chiama Gayburg Avete presente Ognuno di voi Chissà che ci è finito Sopra In qualche maniera E dove L'ossessione È per Il popolo Che era durato Qua Noi siamo gli unici A pensarla così Però Fare una particolare Attenzione Si è riservata a noi Io penso Anche In modo un po' Più ottimistico Che Magari Non sempre C'è una regia Ma c'è una Così Una Anche una moda E tante volte Perché Perché certe cose Vengono raccontate Tutta la battaglia È stata raccontata Come già la scelta Del nome La battaglia Per i diritti civili Noi sappiamo Che tutti i diritti Delle coppie conviventi Erano già garantiti Prima Della legge Cirinna Diritti civili Fa risuonare A tutti noi Rosa Parks Che è stata Che non poteva sedersi In autobus Fa risuonare Altre battaglie Quelle sì Di diritti civili E quindi Secondo me È come viene anche Raccontata Noi siamo qui Per spezzare Questo Questo incantesimo Cioè raccontare La verità In un modo Che non viene Sempre Non viene mai Praticamente Suggerito Ecco Un'altra cosa Su cui proprio La storia Della nascita Della legge Sull'aborto È nata proprio Da una bugia Da una battaglia Propagandistica Prima di tutto Negli Stati Uniti C'è la storia Falsa Di uno stupro Per cui secondo me Tanta gente Va dietro Non tutta perché Diciamo Aderente alla lobby Ma semplicemente Perché le cose Gli vengono raccontate Male Ecco E sull'aborto Anche in Italia Per esempio È stata Diciamo Funzionale La storia Della diossina Di Serveso Quindi Da Rimedio Estremo Che poi Noi non siamo D'accordo Nessuno di noi Però Da rimedio Estremo Per situazioni Estreme È diventata Praticamente Una pratica Contraccettiva E qual è adesso Lo stato Della situazione Sono migliorate Le cose Abbiamo detto Di no Evidentemente L'aborto Dobbiamo stare Molto attenti E purtroppo Le difese Non sono sollevate Perché ci vendono Questo dato Di 10.000 aborti In meno Nell'ultimo anno Non lo parametrano Mai Al fatto Che la natalità Si è abbattuta A livelli Bassissimi Che è il primo Elemento Di preoccupazione In Italia Non si fanno Più figli Le donne italiane Fanno 1,25 1,27 Figli per donna È una percentuale È un dato Un tasso Bassissimo Non consente Il ricambio Abbiamo peraltro Dei picchi di mortalità Curiosi Il 2017 Troverete nel libro I dati del 2017 Cioè Le proiezioni Rispetto al primo trimestre E Avemo un altro Record Colossale E incomprensibile Di morti Oltre 700.000 707.000 Dice Istan E davanti a questa tragedia Perché io la considero Una tragedia Se il saldo Tra 461.000 nati E 707.000 morti All'interno Dei 461.000 nati La percentuale Di stranieri È altissima L'8% Dei donne straniere Fa il 25% Dei figli E non li sta leggendo I numeri Io non lo so Come fai Non ho un ghostwriter L'ho scritto io Il libro Giù Il Il dato che Deve allarmarci E dunque Gli italiani Fanno meno Di 400.000 figli Muoiono i 707.000 Quelli sono Quasi totalmente italiani Perché No? Gli anziani Sono i nostri Vuol dire che il saldo Fa perdere 300.000 Cittadini italiani In un solo anno Che non devo dirvelo È quasi la popolazione Della città di Bologna Noi abbiamo perso Bologna In un anno Dentro questo schema Ci mettiamo pure 90.000 aborti Su meno di 400.000 Nati E in più Inseriamo La cultura Del terrore Della maternità Che è Raccontato Dai dati Delle scatole Di varie pillole abortive Che vengono Consumate Insieme alla Liberalizzazione stessa E voi sapete benissimo Che se volete Prendere un attacchipirina Dovete avere La prescrizione medica Se dovete andare a prendere la pillola Cinque giorni dopo Invece si va al banco È una follia Questo è un problema Culturale Enorme Chi ha alzato la voce? Chi ha detto mezza parola Quando l'AIFA Nel 2015 Sua autorizzazione Il governo Ha fatto questo Atto Qualcuno di noi Se ne è accorto? Purtroppo nel 2015 Non c'era il popolo La famiglia Noi ce ne saremmo accorti E ora dobbiamo stare Molto attenti A descrivere questi fenomeni Perché il fenomeno L'aborto Sta diventando Progressivamente Nella cultura europea Che te lo vuole imporre Cancellando per esempio Il diritto di obiezione Di coscienza dei medici Io vengo da una regione Dove è stato varato Un bando surreale Dal punto di vista costituzionale In cui potevano essere assunti Solo medici Disposti A compiere Interruzione di gravidanza Mentre Nei confronti Un medico cattolico Obiettore C'era una fatua Ma è attollerabile In una cosa del genere È impensabile E allora noi dobbiamo Avere chiaro Che questo sta avvenendo Se avviene questo Il passo successivo Qual è costanza? Che l'Europa Che detta Questo tipo di direttive Si orienterà Sempre più Verso quelle politiche Che io descrivo Nel libro Della Francia Della Dalimarca Dell'Islanda Che hanno deciso Ad esempio La soppressione Sistematica Dei concepiti Affetti Da Trisomia 21 E non solo Ville Pettone Lenco Di tutte le malattie Che vengono segnalate Quando Uno Stato Un governo Un'entità sovranazionale Con il potere Riesce a costruire Le condizioni Per cui in Islanda Nascano solo Due Bimby Down In Danimarca 38 Di cui 36 Per volontà Del signore Perché Per un errore O per mancata Amniocentesi E 1800 Vengono abortiti Quando si decide Di prendere Selezionare Un segmento Di popolazione E abbatterlo Sistematicamente Lo possiamo definire Nazismo O no È eugenetica Di stampo Neonazista Il popolo Della famiglia Si sta opponendo A questa deriva Permettimi Costanza Quando schissi Voglio la mamma C'era in quel libro Un po' di idee Sulle cose Che sarebbero accadute O potevano accadere È un libro Che ha portato sfiga Sono avvenute tutte Ok La lettura che c'è Non capiamo Moriamo Indica Quello che potrà Accadere Se noi Non ci opponiamo E questo Lo capiamo O moriamo Non è una teoria Una fanfaluga Un allarme Succederà fra duecent'anni Accade Adesso Sta accadendo Se arriveremo Alla prossima legislatura Con questa qualità Delle classi dirigenti È molto probabile Che l'incapacità Di risolvere Questioni strutturali Di questo paese Il danno che c'è Sul fronte del lavoro Il danno che c'è Sul fronte del debito pubblico Il danno che c'è Nei confronti A scuola In questo paese La colossale difficoltà Che vivono i nostri anziani Poiché non sanno risolvere Tutto questo Si metteranno La medaglietta E diranno Ma io ho provato La legge sull'eutanasia Ma io l'ho provato La legge sul matrimonio Equalitario Avete mai provato A vedere i nostri Politici di governo Quando vanno Adesso in televisione A descrivere L'attività Della loro legislatura Sapete cosa è successo In questa legislatura Cinque anni È successo Io sono uscito Dal Parlamento Nel 2013 E non mi sono ricandidato Anche per la convinzione Di aver fallito Perché mi sembrava Di aver lasciato Al paese Le condizioni Più tragiche Possibili Uscivamo dal governo Monti C'era stato Il casino sugli esodati Mi sembrava Di far parte Di una classe di gente Totalmente Imbelle Lasciavamo Lasciavamo Il 10,5% Di disoccupazione Il 30% Di disoccupazione Giovanile 1979 miliardi Di debito pubblico 3 milioni e mezzo Di poveri Italiani In condizioni Di povertà Ha detto Abbiamo lasciato Un disastro Oggi Vado a guardarmi I dati La disoccupazione In generale È sopra L'11% La disoccupazione Giovanile È sopra Il 40% Il debito pubblico È arrivato 2250 miliardi Di euro E i poveri In condizioni Di assoluta povertà In Italia Sono quasi 5 milioni E allora Voi loro Vanno in televisione E dicono Ma noi abbiamo fatto La legge Sulle unioni civili Noi abbiamo fatto Il divorzio breve Quelli lo sanno solo dire Allora noi dobbiamo rispondere Non siete stati Capaci Di rispondere Ai bisogni veri Degli italiani E avete varato Riforme Su diritti Incivili Perché quel diritto È incivile Perché attacca L'unico bene Che sta salvando Questa società Che si chiama Famiglia naturale Le mamme I papà Che fanno una fatica A boia Per arrivare a fine mese E crescere i loro figli E dare un futuro E una prospettiva A questo paese E questa è la risposta Che dobbiamo dare Che poi Una madre Cioè non è che le donne In Islanda Vengano costrette Ovviamente Ad abortire Però Vengono talmente Spaventate Su quello che può essere La vita Di un bambino Non perfettamente sano Che Cioè è difficile Nel clima culturale In cui siamo immerse È difficile Che una donna Da sola Se non è aiutata Supportata Incoraggiata Ma anzi Se dicono Vedrai che vita Terribile Avrà tuo figlio Magari Non tutti Sono C'hanno il coraggio Di opporsi Insomma Mi viene una curiosità Sull'utero in affitto Cioè Questo Insomma Capitolo Che Che anche qui Riassume Tutte le Novità E tutte le cose Più importanti Ma fa anche La storia Ma Mi è venuta La curiosità Io la prima volta Che ho sentito Parlare del tema È stata Da te Ma come è nata Questa Questa paternità In modo tutto Infiocchettato E colorato Invece La verità Di quello Che succede Gli ormoni Le operazioni I soldi Lo sentite dire Solo da te Come ti è venuto Di occuparti Di questo Che non è un tema Molto da uomo Diciamo Sarà il mio lato Femminile Cara La verità È che Essere padre Di femmine Perché questa È la disgrazia Io ho fatto Una fotografia L'altro giorno Festeggevamo Il mio compleanno E mi accorgevo Intorno a me È solo femmine Non c'è proprio E ti porta A avere un istinto Immediatamente Protettivo E lo scrivo Anche nel libro Il mio terrore È il terrore Per le mie figlie Se dovessero vivere In una società In cui Non ho fatto Tutto il possibile Per salvarle Dalla riscita Agli inferi Mi sentirei È pesantemente Responsabile E la vicenda È l'utero in affitto È la fotografia Della discesa Agli inferi E non la conosce Nessuno Io racconto In Non capiamo Moriamo L'origine Come funziona Come funziona La storia L'utero in affitto Come è cominciata Racconto il caso Giudiziario Adesso Non ve la voglio Fare lunga Ma Leggendo le storie Ab origine Fin dall'inizio Vedete sempre storie Di immenso Dolore Dolore Ed è inevitabile Che sia così E io lo dico Ai nostri amici Omosessuali Che ci raccontano E hanno detto È citata Costanza Miniano Nel libro Proprio Rispetto alla famosa Intervista La Sette In cui I due signori Osarono dire A Costanza Miniano Che chiedeva Dov'è la madre La madre Non esiste È un concetto Antropologico E' diventato A casa nostra Un topos letterario Ormai tipo Vai a lavare i denti No I denti non esistono Sono un concetto Antropologico Ormai è proprio Oppure anche Mi chiede A concetto antropologico Dammi l'acqua Ora L'hanno detto Seriamente Io lì guardavo Ero lì In diretta Guardavo Adesso Cioè Vidono E dicono Vabbè Una battuta Non sta Adesso sta No no Lo dicevano seriamente Cioè Queste persone Pensano Guardate Il libro E' un po' cattivo Su questa Su questa In questo capitolo Perché vi racconta Proprio tutto Vi racconta Per esempio Che prendere un ovulo A una donna Non è Fare il prelievo Del sangue È una procedura Dolorosissima Faticosissima Che dura Settimane È una violenza Immane nei confronti Del corpo della donna E viene fatta E ha del successo Semplicemente Per un motivo Per cui sui giornali Vengono messi Annunci Che invitano Studentesse A fare questa donazione In cambio Di 10.000 dollari È l'unica Motivazione Per cui queste persone Vanno a esporsi A questo travaglio Infinito E sto parlando Solo dell'inizio Del percorso Che un coraggioso Documentarista Ha voluto Filmare E raccontare In un documentario Che si chiama Exploitation Di cui il libro Contiene il link Che potete andare a vedere Per capire Di che stiamo parlando Del momento iniziale Tutto questo processo È un processo Di immenso dolore Il dolore fisico Della ragazza Spesso giovanissima Che viene ricercata Di bella presenza Che viene ricercata Con caratteristiche specifiche Che per denaro Si sottopone A questo enorme travaglio Poi c'è la sofferenza E non neghiamo Della donna Costretta Da una condizione Di bisogno E questo Amici Della sinistra italiana Vale in India E vale in California È sempre Quella la leva Nessuno Ricco Vivente I figli Questo state tranquilli Non funziona così State sempre Caro Michi Vendola Caro senatore Lo giudice State sempre facendo leva Su una donna In condizione Di bisogno E in una terra Dove ancora vince la sinistra E da un Ragazzo ormai cresciuto Che da ragazzo È stato militante E parlamentare Di sinistra Fateci dire Fatemi dire Che questo Per la sinistra È una vergogna Una assoluta Vergogna Perché è totalmente Contrario Persino Alle flebbi Ragioni Che in questo momento Sono portate avanti Da quel raggruppamento Politico Fai leva Su una condizione Di bisogno Di una donna Che si impianterà Questo ovulo Fecondato Ovviamente Sempre Ricordatevelo La donatrice Il suo patrimonio Genetico Deve essere distinte Dalla donna portatrice Dalla donna gestante Perché il bambino Punto ultimo Del dolore E della violenza Non deve poter mai Riconoscere Chi è la madre Perché l'antichità È molto più facile Invece Fa tutta Stata lantella Dolorosissima E costosissima Prendi l'ovulo Di quella che sta lì La ringravi di quella E risolvi Invece no Fai tutta questa cosa La donna Firma un contratto Ricordiamocelo sempre In cui Gli acquirenti Diventano Dominatori Del suo corpo Possono Decidere Loro Se la donna Deve abortire Altro elemento Io trovo Folle Inconcepibile Ma in ogni Contratto È prevista Una clausola Che obbliga La donna Ad abortire Su indicazione Gli acquirenti Spesso Inevitabilmente Si costruisce Un'empatia Inevitabile La natura Ragazzi Non si toglie Questa cosa Tra Il nascituro E poi il neonato E la donna Che lo partorisce Il momento Della rottura Di questo rapporto È un momento Infinitamente Doloroso Che ho già raccontato In voglio la mamma Il grido Era lì Voglio la mamma Quel bambino Cresce È in una condizione Di dolore Inevitabile Che l'assenza Della madre Signori Passeggiamo per Iolo Se mi presentate Un bambino Che non ha la mamma Penserò Che ha avuto La peggiore Di disgrazie No? Qui lo stiamo Costruendo A tavolino Un tipo Della condizione Del genere Perché? Perché dei ricchi Hanno bisogno Di far leva Sulla condizione Di povertà La donna Della working class Americana Perché adesso Ci spiegano Che in California È tutto bellissimo Vanno lì Da una donna Della working class Americana Impoverita Che vende loro I figli Pensa Di fare tutto questo Con la gioia Di questa donna Manco per niente Poi se la trovano Nelle elezioni Che vota Trump E si chiedono perché Esatto Allora Questa è La incapacità Di lettura Dei fenomeni Che un certo Mondo Sociologico Giornalistico E politico Ha ormai Nelle proprie condizioni La propria vita Io ho una speranza Costanza Lo dico con franchezza È una frase Che sono antipatica Ma nel libro Commessa Alla fine Chi chiarirà tutto Saranno questi ragazzi Questi ragazzi Cresceranno E chiederanno Conto E diranno Con quale diritto Mi hai privato Tu Di mia madre Glielo diranno Glielo chiederanno Gli aiuteremo A chiederlo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti